Salve ragazzi e cari amici del web, siamo a Jakarta in Indonesia, questo che state vedendo ve lo sta a dimostrare, abbiamo anche la bandiera qui in alto e un particolare che salta subito agli occhi del cosiddetto cortese viaggiatore pellegrino è il fatto che tanti posti soprattutto pedonali sono tutti imbrattati, sporchi, lerci, tipo vi faccio un po' vedere vedete qua che giù questo nero che uno dirà saranno le piogge acide, sarà lo smog, no in realtà ci sono degli addetti ad imbrattare le zone pedonali guardate qui ne abbiamo uno che si sta dando da fare, ha fatto quel pezzettino lì, è arrivato fino a un certo punto qui ne abbiamo altri, gli danno giù una specie di olio di lino, una cosa che puzza e dove vedete che passano questi qua vedete subito il nero, il lercio guardate qui all'opera sono i cosiddetti disoccupati impiegati nei lavori sociali, abbiamo i disoccupati impiegati nei lavori sociali non sanno, sono raccomandati chiaramente perché qua ci sono attorno milioni di persone che si arrabattano, cercano di vivere con meno di un euro al giorno e questi qua hanno avuto una sistemazione purtroppo questa, gli hanno detto cosa si fa se usare il pennello sai imbrattare un po' in giro, gli danno questi lavoretti qua, si danno da fare, fanno qualche opera, qualche piccolo lavoro di manovalanza e tirano avanti la giornata, ciao a tutti